Stavo appunto raccontando di quello che mi diceva mio padre, mio padre era bambino quando comunque è andato con mia nonna a recuperare il corpo di Franco, che era Franco Gervasini, che è stato fucilato alle Bettole il 27 di aprile, e mi raccontava appunto che c'era il comandante, lui non li chiama partigiani, perdonatemi, li chiama comunisti, perché comunque c'erano sia i partigiani cristiani che i partigiani comunisti, e mi diceva che il comandante che gli ha ridato il corpo davanti alla questura di Varese aveva sull'orologio d'oro di mio zio. Mi raccontò oltre sì più volte quando ero bambino che il corpo di Dante ce lo ridiedero dopo circa due anni dalla morte, ringraziando gli americani, perché se no noi non avremmo questa tomba, non avremmo mio zio qui sotto, perché minacciarono che se il corpo di Dante arrivava a Varese, che comunque era un eroe, perché ha sacrificato la sua vita, un paracrautista della Folgore, morto in difesa dei suoi ideali e della patria. Non mi sto a dilungare sulla storia delle due brigate Folgore Nembo che si furono divise e da amici e camerati diventarono nemici nel giro di un giorno. Fecero delle scelte forti e mi raccontò appunto che grazie al comandante Poletti il corpo arrivò a Varese su un Ford americano gigante con scortato il plotone che fece anche, scusate l'emozione, ma sono cose che abbiamo vissuto, mio padre me la racconta assieme a quando siamo bambini. Fecero anche gli spari a salve, gli uomini militari, perché se non fosse stato così grazie all'americano il corpo di Dante sarebbe finito nell'olona, come avevano più volte minacciato e non è giusto perché anche oggi ho chiesto ai ragazzi di partecipare a questa commemorazione privata perché alla fine noi stiamo commemorando due miei parenti, due eroi in un modo o nell'altro che alla fine sono morti. non si può prendere un'idea politica e paragonarla alla sofferenza che abbiamo provato noi. Qui stiamo solo commemorando due persone che hanno sacrificato la loro vita per un ideale, qualsiasi sia l'ideale non importa in questo momento.